Entra nel vivo, nella sua fase più calda, il processo contro Laura Bonafede, la maestra di Campobello di Mazzara, sentimentalmente legata a Matteo Messina Denaro. La procura di Palermo ieri ha chiesto la condanna a 15 anni di carcere. Ricordiamo che la Bonafede è figlia dello storico boss di Campobello, Leonardo Bonafede, ed è accusata di associazione mafiosa. La requisitoria è stata condotta dai PM Piero Padoa e Gianluca De Leo. La parola passa adesso alla difesa.